Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, è tutto merito dei ragazzi. Vanno loro in campo e loro dimostrano di valere la categoria. Nel senso che purtroppo eravamo caduti in un vortice dove vuoi qualche prestazione non buona, vuoi qualche contestazione importante. I ragazzi erano un po' giù, quindi si è dovuto lavorare soprattutto sul morale di questi ragazzi che dal punto di vista etico per me sono eccezionali. La vittoria è tutta loro. No, in verità più contento per il risultato. Era una vittoria che aspettavamo da tanto tempo, ci mancava, ce la meritavamo e non veniva. Quindi contento per la vittoria per il gruppo. Sì, è stato importante soprattutto per la squadra che non vincevamo da tempo e soprattutto questi gol sono fondamentali sia per me che per la squadra, soprattutto per la squadra. Pomiglia Energia è sponsor del Calcio Pomigliano.